Se si trovano in buone condizioni fisiche, hanno un interesse, perché non provarci? Ecco il modo migliore di utilizzare gli abili e le ricchiaie. L'asso della manica può essere l'esperienza in più che si ha rispetto agli altri. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! Entra all'interno del sistema solare interno 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 Entra al sistema solare interno Entra all'interno del sistema solare interno